22 milioni e mezzo di euro nei prossimi cinque anni per coprire il costo dell'energia ai cittadini della Valdagri. Sono questi i numeri del nuovo accordo quinquennale bonus energetico che è stato sticlato nella sala della Bibliomediateca Nicola Basile di Vigiano tra Eni, Shell e gli undici sindaci dei comuni interessati. L'accordo rientra nell'ambito del disciplinare attuativo delle linee guida per la fornitura di gas naturale che era stato sottoscritto il 16 dicembre 2015 tra regioni Basilicata, Eni, Shell e il comune di Vigiano in qualità di capofila dei dieci comuni della zona interessati ovvero Grumento Nova, Marsico Vetere, Marsico Nuovo, Moliterno, Montemurro, Sarconi, Spinoso, Paterno e Tramutola ai quali si è poi aggiunto nel 2019 anche il comune di Calvello. Il disciplinare è scaduto nel dicembre del 2020 dopo un lungo lavoro di mediazione trattativa è stato ridiscusso come ha spiegato il primo cittadino di Vigiano Amedeo Cicala. Sicuramente abbiamo dato una parità di trattamento a tutti i cittadini degli undici comuni nel senso che anche chi non è servito dalla rete gas potrà fare tranquillamente domanda perché all'interno non c'è soltanto il rendicondo appunto del gas, della spesa del gas del cittadino ma il cittadino potrà presentare anche le bollette elettriche e anche altre forme di energia e penso che su questo ci sia una vera e propria rivoluzione. Un altro elemento utile e di novità consiste nel fatto che non si tratta di bonus appunto gas ma appunto di bonus energetico e che avrà una misura fissa cioè di 4 milioni e mezzo compreso il contributo che andrà agli undici comuni direttamente. Per i cittadini invece ci saranno 3,6 milioni di euro. Quindi la differenza sta nel fatto che l'altra volta abbiamo avuto momenti di 2 milioni, di 3 milioni e mezzo e anche di 4 milioni e quindi a volte abbiamo dato un contributo un po' troppo minimo. Questa volta la mia battaglia è stata proprio nell'insistere ad avere un contributo fisso di modo che per 5 anni per una famiglia media di circa 4 persone ci saranno 500 euro circa a famiglia. La fonte energia che non è solo fonte di scaldamento ma è proprio il caro energia noi con questo provvedimento e con questa battaglia che ho portato avanti ho voluto dare una mano ai cittadini ma al caro bolletto e il caro bolletto non è dato soltanto dal gas. È una trattativa che è durata quasi due anni, davvero difficile perché nel contempo vi era la trattativa del bonus gas regionale e bisognava innestarlo con le compagnie da un punto di vista giuridico, da un punto di vista anche di merito, anche quello che era il bonus che già era stato per 5 anni da parte di 10 comuni della Val d'Acri. Ma devo dire che con senso di responsabilità da parte delle compagnie e con l'unità dei sindaci che hanno mostrato con la loro delega nei miei confronti io ho portato alla fine a compimento questa dura battaglia. Già da domani inizieremo con i bandi, inizieremo a lavorare con l'ufficio sportello, con gli uffici dei comuni, chiederò uno sforzo a tutti i dipendenti per essere il più veloce possibile, per dare risposte immediate perché il caro bolletto in Italia ce lo abbiamo oggi. Non c'è assolutamente un contrasto tra quello che è il bonus gas regionale e questo invece che riguarda gli 11 comuni ma addirittura noi a Vigiano abbiamo anche un altro bonus, un altro bonus energetico dal quale ho preso ispirazione per appunto il bonus della Val d'Agri, il bonus energetico della Val d'Agri e quindi anche con l'altro non sarà assolutamente in antitesi, anzi per quanto riguarda Vigiano ma un po' la Val d'Agri con questi bonus penso che abbiamo raggiunto quella agognata zona franca che si diceva anni fa per quelle zone che sono come dire limitrofe al centro olio o comunque vicine ai luoghi di estrazione. Soddisfazione è stata espressa anche dalle compagnie petrolifere che hanno erogato il contributo come ci ha detto Marco Marsili di Shell. Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo, è sicuramente un altro segnale di sostegno in questo momento poi in cui i prezzi dell'energia sono particolarmente alti crediamo che questo possa essere di aiuto a tutti gli abitanti delle zone in cui noi operiamo, quindi sì siamo molto contenti. Beh è stata una trattativa diciamo maggiormente più che direi difficile è avvenuta un po' in parallelo anche con la trattativa regionale quindi ovviamente per noi dovevamo procederla in parallelo però devo dire le discussioni sono state molto costruttive e anche i sindaci e il modo in cui ci hanno, si sono interfacciati tra loro secondo me è stato molto efficiente. Non si parla più solo di bonus gas bensì energetico quindi questo dà anche spazio a una visione che va anche verso altre forme di energia da parte della compagnia petrolifera. Sì questo è in realtà uno dei punti che mi rende più felice di questo accordo perché sì c'è ovviamente un elemento di sostegno come dicevo per il momento energetico ma c'è anche una componente di efficientamento e di nuovo quindi secondo me va anche nella direzione giusta della transizione energetica e della riduzione delle emissioni. Alla firma del protocollo era anche presente il presidente del consiglio regionale della Basilicata Carmine Cicala che ha spiegato come questa misura si aggiunge e non sostituisce il bonus molecola gas erogato dalla regione per tutti i cittadini lucani. Sì allora questo in effetti è un bonus che è dedicato agli 11 paesi dell'Alta Val d'Agri questo come dicevamo perché su questo territorio insistono i pozzi di petrolio quindi la coltivazione degli idrocarburi ed è corretto evidenziare e specificare che va di fatto ad aggiungersi a quello che è il bonus gas regionale quindi mentre la regione Basilicata dà la molecola del gas gratis questo protocollo invece prevede un bonus energetico. I due si sommano e quindi per un doppio vandaggio a favore dei cittadini.